Ciao a tutti, sono Michele Bulanti, istruttore nazionale ed anche allenatore nazionale. Ho provato in anteprima il nuovo Hero Master Rossignol e devo dire che sono state rispettate le peculiarità, anzi migliorate, alcune peculiarità che sono quella dell'usabilità dello sci e la facilità tra fine curva ed entrata della curva successiva. Ho trovato altresì migliorata la tenuta laterale che si riverbera nella conduzione della curva. Io ho scelto il mio raggio, sceglielo anche tu il tuo raggio.